Eccoci, buonasera, anche stasera si riparte dalla scia di polemiche, di prese di posizioni riguardo alle decisioni prese e comunicate ieri dal Consiglio dei Ministri, a cominciare dal Presidente del Consiglio, poi in conferenza stampa a Cutro, lì nel luogo in cui come si sa avvenne ormai 12 giorni fa il terribile naufragio, oggi il 73esimo corpo tra l'altro è stato riportato a Riva. In realtà si parla di questo ma le polemiche, le prese di posizioni politiche si intrecciano anche con le notizie nuove che arrivano dal sud, dalle coste meridionali d'Italia e dal Mediterraneo centro-meridionale, perché sono arrivati in tanti altri, tante barche, tanti migranti, ci sono tanti attracchi soprattutto a Lampedusa e non soltanto ci sono altri avvistamenti e c'è l'azione ovviamente a questo punto a maggior ragione a pieno regime di guardia costiera e guardia di finanza. Le condizioni migliori del previsto e degli anni scorsi del mare evidentemente favoriscono le traversate. Ma vedremo che parleremo delle coste italiane per un altro motivo, perché il Consiglio di Stato, lo ha fatto per la verità già da praticamente 48 ore, ma nessuno se ne era più o meno accorto, intervenendo su una vicenda, su una disputa particolare che riguardava uno stabilimento, ha di fatto impallinato in maniera decisiva il rinvio che era stato messo nel decreto mille proroghe della maggioranza della questione della concessione per i balneari. E a questo punto, tra l'altro ricorderete, c'era già stata quella che possiamo definire la moral suasion del Presidente Mattarella riguardo all'Europa, ci chiede di non procrastinare oltre nella rimessa in assegnazione all'asta delle concessioni balnearie. A questo punto sarà necessario un intervento di urgenza del Governo, che comunque tenterà probabilmente di fare ricorso in ultima istanza alla Corte Costituzionale al riguardo. Vedremo però anche che ci sono fatti internazionali importanti, la visita di Netanyahu ne abbiamo parlato ieri e oggi si è svolta senza particolari sussulti o proteste, documenteremo quelle che ci sono state, ma soprattutto l'attenzione è sulla Germania, dove ieri sera c'è stata una terribile vicenda, un killer, un attentatore ha ucciso sette persone e poi è morto anche lui all'interno di un tempio dei testimoni di Egeo a Hamburgo. Ed è in corso, sempre in Germania, a Karlsruhe, un altro atto violento, una presa di ostaggi, una richiesta di riscatto, una vicenda non ancora del tutto inquadrata, ma che ovviamente genera ulteriori apprensioni, ma parleremo ovviamente anche degli altri fatti internazionali, compreso quello che riguarda il Presidente cinese Xi Jinping, che è stato riconfermato per un terzo mandato, dopo essere già stato riconfermato alla guida del partito, è il capo assoluto per la Cina, a questo punto lo sarà almeno per un quindicennio, più dello stesso periodo al potere di Mao Zedong e di tutti i leader cinesi che si sono susseguiti dopo la rivoluzione del 1949. Ma vedremo anche altri fatti italiani, quelle inchieste della magistratura a Bergamo e un'altra che sta sfociando nelle richieste di rinvio a giudizio per l'armatore onorato e per Beppe Grillo. Ci fermiamo, 30 secondi o poco più e poi i titoli. Dopo il decreto del governo sull'immigrazione e l'enorme antiscafisti ufficializzato ieri sera a Cutro non si spegne la polemica tra maggioranza e opposizione sul naufragio costato la vita a 73 migranti. L'ex premier Conte accusa Meloni superficialità e confusione intanto a largo delle coste calabresi, operazioni in corso della guardia costiera, tre barconi con oltre mille persone a bordo mentre proseguono gli arrivi anche a Lampedusa. Il Consiglio di Stato ha bocciato la proroga di un anno delle concessioni balneari contenuta nel decreto Bille Proroghe. La decisione contrasta con le norme europee, hanno fatto sapere i giudici del Consiglio. Il governo però difende il rinvio di un anno, ma è polemica anche qui con le opposizioni, il PD parla di esecutivo in PAN, vittima della sua stessa propaganda. Per il terzo polo rischi concreti che la Commissione europea decida di sanzionare l'Italia. 8 morti, tra cui una donna incinta di 7 mesi. Il tragico bilancio della sparatoria ieri sera in una chiesa dei testimoni di Jehova Hamburgo, Germania. A compiere la strage un uomo di 35 anni, ex membro della comunità, che si è tolto la vita poco prima dell'irruzione delle forze dell'ordine. Aveva un regolare porto d'armi e nessun precedente. Sempre in Germania è in corso una presa di ostaggi di alcune persone in un esercizio, una farmacia di Karlsruhe. Un vero e proprio terremoto finanziario e azionario in tutto il mondo e anche ovviamente negli Stati Uniti per l'annuncio del fallimento improvviso della Silicon Valley Bank, un importante istituto di credito specializzato, come ben comprensibile dalla sua denominazione nella raccolta fondi per le start-up, nell'ormai celebre area californiana. La chiusura decisa per tutelare i depositi assicurati dai correntisti. Solo due giorni fa la banca aveva tentato di sanare il buco di bilancio, vendendo le sue azioni per 2 miliardi di dollari. Tutte le borse a picco. Xi Jinping, per la terza volta eletto presidente della Cina. Un mandato per i prossimi cinque anni ha ottenuto all'unanimità, più di 2.900 votanti da parte della nomenclatura dello Stato e del partito comunista cinese. Per Xi, che è già al vertice del partito dal 2012, si prospettano sfide complesse sia sul piano nazionale con il rallentamento dell'economia che sul piano internazionale con il peggioramento delle relazioni con gli Stati Uniti e la guerra in corso. Buonasera, come avete sentito ci sono tante cose di cui parlare e tante altre sono rimaste fuori dai titoli, ma ne parleremo come vi ho anticipato nell'anticipazione appunto pochi minuti fa. Ma si parte ancora da lì, da quello che è successo a steccato di Cutro, da quello che ha deciso il governo, dai nuovi arrivi e dalle nuove emergenze annunciate in queste ore e dalle polemiche politiche. Tre diversi drammatici SOS lanciati da barche in difficoltà sono alla deriva a largo della Calabria. A bordo in totale 1300 migranti fermi su natanti che imbarcano acqua in mare aperto. Nove mezzi italiani di soccorso in questo momento sono all'opera. Queste foto delle tre imbarcazioni e della loro rotta diffuse dalla Guardia Costiera documentano la situazione drammatica. È partito nel primo pomeriggio il nuovo allarme nell'oionio diffuso dall'Anfon sulle nuove rotte della migrazione. Le tre barche rischiano il naufragio. La prima, un peschereccio, si trova a 70 miglia dalle coste di Crotone. A bordo ci sono oltre 500 persone. Tre motovedette della Guardia Costiera stanno ancora tentando di raggiungerla. Non è tutto perché 100 miglia a sud-est di Roccella Ionica ci sono altri due barconi con altri 800 migranti. È una corsa contro il tempo, tanto convulsa che la stessa Guardia Costiera in un comunicato diffuso cinque ore fa. Ammette di essere in difficoltà nell'area sara italiana e chiede l'intervento dei mezzi della Marina Militare. Nave d'attilo della Guardia Costiera e altre tre motovedette viaggiano per tentare l'operazione di soccorso delle tre navi. Ma la giornata ha fatto segnare un numero impressionante di sbarchi e interventi anche in Sicilia. Oltre 480 migranti sono stati soccorsi dalla nave 18 a poche miglia dall'isola di Lampedusa dove la nave della Guardia Costiera aveva in programma di trasferire sulla terraferma gli ospiti dello spot di Contrada Ambriacola che in queste ore ospita più di 3.000 persone a fronte di una capienza di 400 posti. Non bastano gli spostamenti verso altri centri di accoglienza perché ora dopo ora nel porto dell'isola si contano nuovi sbarchi. 41 soltanto nella giornata di oggi tutti provenienti dalla Tunisia. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono anche a steccato di cutro teatro del nafragio del 26 febbraio. Il mare oggi ha restituito il corpo di un altro bambino di 5 anni e la 73esima vittima accertata è il trentesimo minorenne vittima della strage di cutro. Essi cercano almeno altre 20 persone di cui non si sa più nulla da ormai due settimane. Ieri il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, aveva invitato a Palazzo Chigi parenti delle vittime nel giorno in cui alcune delle salme dei morti di quella tragedia del mare lasciano il palazzetto dello sport di Crotone per tornare in Afghanistan. Shah, afgano che ha steccato di cutro, ha perso il cugino Sabin ci dice di non voler accettare l'invito. Siamo qui da due settimane, non ci hanno mai dato risposte e ora ci dicono di andare a Roma ma noi non vogliamo, siamo stanchi. E domani nel primo pomeriggio sul logo del naufragio a steccato di cutro è prevista una grande manifestazione organizzata dalla rete 26 febbraio a cui hanno dato adesione decine di altre organizzazioni. Le decisioni prese nel consiglio dei ministri di ieri in trasferta a cutro, Giorgia Meloni le sintetizza in un tweet dopo l'ora di pranzo. Pene fino a 30 anni per gli scafisti, procedure semplificate per le espulsioni, gestione ordinata, dei flussi regolari, nessun cenno alle vittime del naufragio dello scorso 26 febbraio e nemmeno chiarimenti su quell'invito a Palazzo Chigi in chiusura di conferenza stampa rivolto ai parenti di chi è scomparso. Il decreto legge approvato in consiglio dei ministri ribadisce la nostra determinazione nello sconfiggere i trafficanti di esseri umani, combattere l'immigrazione illegale e fermare le morti in mare, si legge ancora nel tweet della Presidente. Decreto immigrazione approvato, aveva già scritto di prima mattina il vice premier Matteo Salvini. Pene fino a 30 anni per gli scafisti di morte, cooperazioni con i paesi di partenza per fermare i flussi illegali, strutture più efficienti, maggiore protezione per i profughi veri, espulsioni più rapide per chi non può stare in Italia, riassumeva da parte sua il provvedimento il leader della Lega, anticipando tutti sul tempo, una corsa ad intestarsi il contrasto all'immigrazione che non dimostra niente, anzi nella maggioranza si procede con grande affiatamento la versione del ministro dell'impresa Adolfo Urso. Conte faceva i provvedimenti salvo intesa, Draghi, dei provvedimenti che poi spesso nel Consiglio dei Ministri alcuni ministri non votavano, si astenevano, qui abbiamo un governo finalmente compatto, le parole di Urso. Forze di maggioranza unite, attaccate pesantemente dalle opposizioni tutte. Suggerisco alla Presidente Meloni di rivedere questo estratto della sua conferenza di ieri. Si renderebbe conto che non sono le richieste di chiarimenti, ma la sua superficialità e confusione a offuscare l'immagine del nostro paese l'affondo del leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Il capo del movimento pubblica un video sostiene, pieno di errori, gaffe, scontri con i giornalisti. Non riesce a salvare una barca con oltre 100 persone arenate a Riva, ma pensa di poter arrestare gli scafisti lungo tutto il globo terraqueo? Sono semplicemente ridicoli. Rilancia la vice capogruppo 5 Stelle alla Camera Baldino. Domani i rappresentanti del movimento saranno alla manifestazione a Cutro per le vittime del naufragio. Presenti anche il segretario di sinistra italiana Fratoiani, Riccardo Maggi di Più Europa e una delegazione del Partito Democratico. Vanno a Cutro con il Consiglio dei Ministri, ma evitano di inchinarsi davanti alle bare. Licenziano un decreto che oltre al resto respinge la protezione speciale. Non è un problema politico, o non solo. Il problema sono proprio loro. Non erano pronti e non lo saranno mai le parole di Gianni Cuperlo del Partito Democratico. Non c'è dolo del governo, ma qualcosa non va. Nessuno ha spiegato quello che è successo a Cutro. Insiste anche il leader di azione Calenda. In Parlamento, Giorgia Meloni, si presenterà mercoledì prossimo 15 marzo. Alle 15 parteciperà al Question Time a Montecitorio. Ma questa sera si tratta di parlare delle nostre coste anche per un altro motivo. Perché con una sentenza su una vicenda che riguardava un solo stabilimento balneare, il Consiglio di Stato ha di fatto messo in mora l'intero apparato di rinvio delle decisioni, di rinvio della durata delle concessioni ancora per un anno, immesso come si sa dalla maggioranza e dal governo nel cosiddetto decreto mille proroghe. E ora? La sentenza riguarda un caso specifico, ma la bocciatura è netta. La proroga delle concessioni balneari non va applicata. Dal Consiglio di Stato un alto là al governo che nel decreto mille proroghe, al termine di un braccio di ferro interno alla maggioranza, ha rinnovato di un anno al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni balneari. Scadenza, peraltro, fissata dallo stesso Consiglio di Stato. Le norme che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni balneari sono in contrasto con l'articolo 12 della direttiva europea e dunque non devono essere applicate, scrive la giustizia amministrativa nella sua sentenza contro una decisione del Comune di Manduria, in Puglia. La conferma di un problema non secondario per il governo sulla proroga, in contrasto con la normativa europea, era già intervenuto il Presidente della Repubblica, Mattarella, che promulgando il mille proroga aveva richiamato il governo sulla questione balneari, sulla quale l'Italia rischia la procedura di infrazione da parte di Bruxelles. La sentenza non ci sorprende, commenta il leghista centinaio. I giudici già nel 2021 avevano preannunciato che qualsiasi proroga successiva alle concessioni balneari sarebbe stata considerata da loro priva di efficacia. Noi però rivendichiamo la norma del mille proroga e il diritto del Parlamento a legiferare. Invitiamo il governo ad accelerare sulla mappatura delle coste. Il Consiglio di Stato è rare umano, perseverare e diabolico, commenta da Forza Italia Gasparri, uno dei principali sostenitori della proroga. Dall'opposizione il PD parla di esecutivo in panne, vittima della sua stessa propaganda ideologica. Per il leader verde Bonelli si tratta di una sconfitta per il governo Meloni. Per il terzo polo il rischio che la Commissione europea decida di sanzionare l'Italia si fa ogni giorno più alto. Allora andiamo a vedere una serie di notizie importanti che riguardano l'Italia ma anche gli altri paesi. Intanto la visita a Roma, abbiamo parlato già ieri, le proteste che si è lasciato alle spalle nel suo paese il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Vuole relazioni sempre più strette con il partner italiano Benjamin Netanyahu, premier d'Israele, ampio l'elenco dei temi dall'economia al commercio, dal ruolo strategico regionale alla tecnologia, all'energia, all'acqua. Netanyahu lo ripete da giorni, d'altronde mentre da settimane a quanto risulta le diplomazie dei due paesi starebbero lavorando per rafforzare la bilancia commerciale tra Italia e Israele che nel 2020 ci ha visto esportare verso Gerusalemme beni per 3 miliardi e 200 milioni acquistando da par nostro materie per oltre un miliardo di euro. Con il premier israeliano ed il ministro Urso, al forum del mattino c'era il gota delle aziende italiane, un blocco di imprese da 300 miliardi di euro d'affari l'anno. Urso sottolinea l'importanza di Israele sul fronte transizione energetica con l'Italia in prima linea per vincere la sfida dell'autonomia futura. Tema questo molto caro a Giorgia Meloni. La premier apre poi ad altri temi come la sicurezza regionale, gli sforzi per un partenariato che in Medio Oriente dovrà vedere l'Italia sempre più protagonista, come lo sveleranno gli incontri bilaterali che Meloni e Netanyahu hanno annunciato per i prossimi mesi. Tutto quello che si muoverà verso un futuro negoziato di pace con i palestinesi, aggiunge Meloni, sarà pienamente sostenuto da Roma. In ballo normalizzazione della crisi, de-escalation delle tensioni. Nessun accenno all'Iran o al trasferimento della nostra ambasciata a Gerusalemme, temi cari questi a Netanyahu. A rovinare in parte il dopo pranzo del premier israeliano a Palazzo Chigi, c'è da consegnare alle cronache la protesta annunciata contro il governo di Israele da parte di almeno 200 israeliani residenti in larga parte nel nostro paese. Una protesta contro il neo-governo di ultradestra, contro lo smantellamento della giustizia ed il depotenziamento della Suprema Corte in un paese che non dispone di una sua carta costituzionale. Una protesta contro chi sta tentando di trasformare la pur giovane ma efficace democrazia israeliana in una possibile dittatura teocratica che aprirebbe, secondo il presidente israeliano Herzog, le porte di un incubo che spaventa, anche se, come dichiara Itamar Danieli, portavoce dei liberi cittadini israeliani in Italia, hanno fatto impressione. Secondo me noi non abbiamo paura. Siamo qua per la democrazia e noi vinceriamo sicuramente. Non c'è paura. E parliamo di un avvenimento, di una vicenda che riguarda il mondo intero, che ha affossato le borse asiatiche, poi tutte le borse europee e in questo momento sta mettendo in grande difficoltà anche Wall Street, nonostante che in America ci sia anche motivo economico per festeggiare perché i posti di lavoro conseguiti in un mese sono stati molti di più di quelli che erano previsti, riportando ai massi l'occupazione negli Stati Uniti. Ma il fatto è che c'è il timore fondato dopo la vicenda di quel istituto che trattava soprattutto criptovalute che è saltato gambe all'aria. Adesso a fallire, nell'arco praticamente di una giornata, è stata una banca concreta, importante, che agisce in California nella Silicon Valley e si chiama proprio Silicon Valley Bank. E si teme che si torni a quel domino di fallimenti che ha scandito un'altra stagione della vita finanziaria americana e quindi mondiale. È un caso isolato o è la punta di un pericolosissimo iceberg? È questa la domanda che si stanno ponendo in tutto il mondo investitori ed economisti di fronte alla notizia del fallimento della Silicon Valley Bank, con sede a Santa Clara in California, che oggi è stata posta in liquidazione dall'organismo statale incaricato di tutelare i correntisti nei fallimenti. La SVB è una banca specializzata nella raccolta di fondi per le start-up che hanno reso famosa la Silicon Valley. Piccolissime società con brevetti o idee innovative che vengono dopate con l'iniezione di milioni di dollari, nella speranza che sfondino per poi essere rivendute. Se, come cantava Gianni Morandi, una su mille ce la fa, su quella che sopravvive c'è la possibilità di fare tantissimi soldi, mentre le 999 che restano indietro muoiono in culla o da lì a pochi anni. In ogni caso sono investimenti ad altissimo rischio. Ora, la SVB, che conta 174 miliardi di dollari di depositi per 209 miliardi di investimenti, due giorni fa a sorpresa ha annunciato la vendita di oltre 2 miliardi di dollari di sue azioni per chiudere un buco di bilancio dovuto ad investimenti andati male. Le sue azioni sono crollate ed è partita la corsa a togliere i risparmi fino al fallimento di oggi, il primo in 15 anni di una banca americana di rilievo. Ora, è da quando è iniziato il rialzo dei tassi della Federal Reserve, ossia da quando è finita l'era del denaro a basso costo, che gli economisti avvertono della possibilità che da qualche parte nell'architettura della finanza mondiale si apra una falla di qualche genere, finora non individuata ma che alcuni ipotizzavano nelle criptovalute, esattamente come accadde nel 2008 con la crisi dei mutui subprime che portò al fallimento della Lehman Brothers e ad una crisi finanziaria mondiale. Non a caso oggi ne ha risentito prima a Wall Street, poi risalita per dati positivi sull'occupazione, poi le borse asiatiche e infine quelle europee con i titoli bancari in difficoltà. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha dichiarato ci sono sviluppi recenti che riguardano alcune banche che sto monitorando molto attentamente ma non ha risposto alla domanda cruciale. La SVB è un caso isolato e quindi non dobbiamo preoccuparci oppure c'è un rischio di contagio? E c'è un'altra vicenda che sconvolge l'Europa in tutt'altro senso. Ieri sera quella strage che è stata compiuta all'interno di un tempio dei testimoni di Geova a Hamburgo, Germania. Vivo qui, ho sentito dei colpi di pistola, mi sono avvicinato alla finestra per capire cosa stesse accadendo e ho visto un uomo che sparava dalla finestra con un'arma da fuoco, così ho filmato tutto. A parlare è Greuger Miemach, testimone oculare della sparatoria messa a segno meno di 24 ore fa in una chiesa di testimoni di Geova a Hamburgo che ha ripreso la strage col suo telefonino. 7 i morti in età compresa tra 33 e 60 anni, tra i quali anche una ragazza al settimo mese di gravidanza e il suo piccolo, più l'attentatore suicida. 8 i feriti, 4 dei quali in gravi condizioni, 6 tedeschi, una donna ugandese e una ucraina. Entrata all'improvviso nella chiesa dove era in corso una funzione religiosa, l'uomo ha svuotato 9 caricatori da 15 colpi ciascuno con la sua pistola semi-automatica. Con sé aveva altri 20 caricatori oltre a quelli trovati più tardi nella sua abitazione. Ed eccola la foto del killer. Si tratta del 35enne cittadino tedesco Philipp F., ex testimone di Geova, comporto d'armi da tiratore sportivo solo dal dicembre scorso. Contro di lui era stata asporta una denuncia anonima alle autorità cittadine che lo definiva inadatto a detenere armi a causa di una malattia mentale non diagnosticata, spiega in conferenza stampa il capo della polizia di Hamburgo, Raph Martin. E non solo, pare che l'uomo provasse un odio viscerale per comunità religiose come quella dei testimoni di Geova e per i suoi datori di lavoro. Da procedura standard a gennaio, l'autorità che gli aveva rilasciato la licenza d'armi aveva effettuato un controllo su di lui senza preavviso e si era mostrato collaborativo. Escluso il movente politico terroristico e accertato che l'uomo soffrisse di problemi psichici, secondo gli inquirenti che indagano sulla strage, Philipp F. avrebbe ucciso solo perché arrabbiato con la comunità dei testimoni di Geova, della quale aveva fatto parte, che aveva abbandonato non senza tensioni, tra cui una lite durissima con alcuni fedeli. Come abbiamo detto nei titoli, è in corso un'altra vicenda a Karlsruhe, nella Germania sud-occidentale. È, come molti sanno, la sede anche della Corte Suprema tedesca. Ma a Karlsruhe, vediamo una fotografia, in realtà c'è una presa d'ostaggi in corso in una, vedete, apoteca è la scritta, in una farmacia. Lì c'è appunto un uomo e non si capisce il movente, se si tratti dell'azione di un folle, di un criminale, di un terrorista che tiene in ostaggio. Alcune persone ha chiesto, secondo le ultimissime notizie, un riscatto di un milione di euro. È una situazione che, come potete immaginare, è molto, molto tesa e grave e di cui sono distillate sia le immagini e sia le notizie. La zona è ovviamente sicillata dalle forze dell'ordine. Se avremo altri elementi nel corso del giornale ve li daremo. Andiamo adesso a vedere che nel paese più popolato del mondo, finché non ci sarà il sorpasso da parte dell'India. Cioè la Cina, nel paese forse economicamente più potente del mondo, c'è una notizia importante, la conferma per altri cinque anni della presenza al potere come numero uno assoluto del partito e dello Stato di Xi Jinping. Uno dei più celebri Shengyu, proverbi cinesi, recita che tre Yang fanno cominciare l'anno. Oggi si potrebbe dire che tre Xi servono per far rinascere il paese. Per la terza volta consecutiva, infatti, il principe rosso Xi Jinping è stato eletto presidente della Cina, succedendo a se stesso, senza sorprese e all'unanimità, come quando era stato eletto sempre per la terza volta segretario generale del partito comunista, la carica da cui deriva il proprio potere. E giurando sulla Costituzione cinese, oltre a stabilire un record della vittoria comunista del 1949, si conferma come il leader cinese più potente dai tempi di Mao Zedong, di certo uno dei più potenti del mondo. Ma al di là dei record, quello che conta è che sarà ancora quest'uomo, 70 anni, il prossimo 15 giugno, al vertice del partito comunista dal 2012, a guidare la Cina verso quello che lui stesso ha sempre definito il rinnovamento della nazione, che nella sostanza significa il rilancio del paese e volti nuovi nelle caselle chiave della classe dirigente che gestisce lo Stato. Proprio domani, infatti, verrà svelato il nome del nuovo primo ministro, con ogni probabilità il fedelissimo Li Qiang. Ma non solo. Nei prossimi cinque anni avrà anche il compito di guidare la seconda economia del pianeta, cercando di mettere in pratica quello che risulta già scritto nella carta fondamentale del partito comunista e nella Costituzione cinese, come pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. Ma non sarà facile. L'economia del paese sta rallentando, non è un caso che la Cina abbia fissato un target di crescita prudente, addirittura modesto, attorno al 5%, per tacere della crisi seguita al Covid, mentre deve fare i conti con il primo calo della popolazione, registrato nel 2022 in oltre 60 anni. E la politica estera non va meglio. Già durante i lavori delle due sessioni del Parlamento, Xi ha incolpato con parole durissime gli Stati Uniti e l'Occidente per il deterioramento delle relazioni con la Cina. e senza mezzi termini ha dichiarato che i rischi e le sfide che la Cina dovrà affrontare non faranno che aumentare. Per questo ha lanciato un appello all'unità, a tutti i concittadini, militari compresi, perché si affrontino insieme i rischi strategici e le possibili guerre. E non si può non pensare alle tensioni legate al caso Taiwan. Torniamo in Italia per una vicenda giudiziaria che rischia di portare a processo il fondatore del Movimento 5 Stelle. La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul caso Mobi. Il fascicolo vede il garante dei 5 Stelle Beppe Grillo e l'amico di vecchia data Vincenzo Onorato, a capo della nota compagnia di navigazione, indagati in concorso per traffico di influenze illecite. Grillo è accusato di aver ricevuto dall'amico armatore Danaro 240 mila euro in cambio di una presunta mediazione illecita. Avrebbe orientato interventi pubblici a favore della compagnia di navigazione leader in Italia, la cui società era già finita sotto inchiesta per bancarotta e ammessa due anni fa al concordato preventivo, attraverso la richiesta diretta a parlamentari in carica ai ministri 5 Stelle e poi inoltrando la risposta di questi a Onorato. Una mediazione illecita secondo il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, come recitava la legge spazza corrotti fortemente voluta proprio dal Movimento 5 Stelle. Nel fascicolo le conversazioni via chat tra Grillo e Onorato, ma anche tra Grillo e alcuni parlamentari. Ho convinto Toninelli di occuparsi della questione a Bruxelles. Secondo la procura il garante chiedeva all'allora ministro dei trasporti di attivarsi davanti alla Commissione europea per promuovere l'autorizzazione per gli sgravi fiscali per le navi traghetto. Ci devono 62 milioni di euro, mi stanno strozzando, dice via chat l'armatore. Vincenzo, ho attivato Luigi e Toninelli, vediamo cosa dicono. Luigi dovrebbe essere Di Maio. Tutti gli ex ministri citati non sono indagati. Agli atti anche l'intercettazione con l'allora ministro dello sviluppo economico Patonelli riguardo alla vendita di due navi della flotta Mobi. Grillo, nell'ottobre del 2019, gira a Onorato un messaggio di Patonelli che dice sto approfondendo la questione Onorato, ti chiamo domani pomeriggio se posso. L'amico armatore e l'ipotesi della procura gli chiedeva a favore in cambio di un contratto sottoscritto nello stesso periodo con la società di Grillo, 10 mila euro al mese per due anni, troppo oneroso dicono i PM rispetto alle controprestazioni pubblicità sul blog di Grillo. Il procuratore capo di Milano fa sapere che nel fascicolo sono stati indagati anche altri soggetti per i quali poi è stata chiesta l'archiviazione. Non si tratterebbe di politici ma di mediatori minori collaboratori dei due indagati che si sarebbero mossi all'interno del presunto traffico di influenze. Grillo al momento non ha replicato alle accuse, ha 20 giorni di tempo per farsi interrogare, dopodiché i magistrati potrebbero chiedere il rinvio a giudizio. Dopo di noi a 8 e mezzo gli ospiti di Ligruber sono Lucio Caracciolo, Stefano Feltri, Tommaso Montanari e Brunella Bolloli. Poi c'è propaganda, è venerdì e tra gli ospiti di Diego Bianchi non mancheranno quelli che ben conoscete, compreso Paolo Celata. Eccoci come detto, come abbiamo visto nel giornale, il crack della Silicon Valley Bank ha portato tutti i mercati azionari in giro per il mondo in negativo. Infatti Milano come vedete ha chiuso con un pesante meno 1,55%. In questo momento a Wall Street il Dow Jones lascia sul campo lo 0,90%, lo Standard & Poor's 500 l'1,31% e il Nasdaq l'1,73%. È tutto. Gruber, Zorro, ci vediamo domani sera. Buonasera.